Buongiorno da BTV News, oggi 24 maggio e Maria ausiliatrice. Ogni anno il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi, Europark, per ricordare il giorno in cui nel 1909 venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa. In Italia i primi parchi furono creati nel 1922, il Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo, divenuto poi Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ogni anno la Giornata Europea dei Parchi è dedicata a un tema specifico, solitamente individuato l'anno precedente nel corso della conferenza internazionale di Europark, che si svolge ai primi di autunno in forma intinerante.